Ora è impossibile da prendere, è impossibile Porca Marco, dai Grazie Porca No Sei serio che è morto Già ma Randall non dura nulla Corrente Corrente Porca Sei serio Era facilissimo Mi sono perso Un botto di vite Porca E di sì Chi ha avuto no ma di qui ah è qua è qua era una passarella trasparente non l'avevo vista come si fa a prendere l'acqua lì boh impossibile andiamo andiamo porca sei serio no 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 girati girati ma dai ragazzi ma è stato lui e no no mi fa rinascere ancora lì e mi fa morì mi ha fatto perdere tre vite stu scemonito adesso devo ricominciare da capo dai così non si fa però è impossibile da prendere impossibile porca Marco dai allora facciamo l'ultimo livello e allora rotante ah si hai capito ma tra l'altro che cos'è sta roba qua wow c'è un'altra strada c'è un'altra strada oh c'è un'altra strada oh ti giri dalla parte giusta no ti giri dalla parte giusta o no si è spostato e fai sta roba e fai sta roba mamma mia che roba hai capito ho saltato la prima parte oh oh aiai 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 alle aiai no 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 Oh no. No E' troppo forte che devo accontrare, raga E' troppo forte che devo accontrare, che devo accontrare, che devo accontrare Non si può, ma quanti comandi dovrei mai fare No, l'unica è qua, raga, eh, adesso va a parte tutto No, 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 no Allora, perché in base a destra e a sinistra dove è andata, raga, è un casino Non è proprio così semplice, eh Sì, ma non cadere di testa No, 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 no Scusa Allora, se non tengo la X ok e qui ce l'abbiamo fatto anche prima il problema di qua e dove andiamo e ora cade di testa e ora cade di testa il testone è un casino raga dai ma bisogna solo andare di qua una porca ah e quindi vai cacchio guida la moto su una ruota sola per evitare la scorsa come c'è qui ah ok va bene qua un saco di roba ragazzi vai girati girati a volte si si baga un po' un po' oh grande ah 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 niente quello la è già un generatore aperto dobbiamo andare su di qua girati oh a volte fa cose strane per fortuna esci eh porca nooo ahhhh ahhh ahhhh incredibile E' più difficile di quanto credessi raga Vabbè l'abbiamo già visto Rotante questi che ci segue Qua mi piaceva di più Dai Porca mi ha preso un piede no prossimo Porca Ciao ho finito tutto BAM Fortissimo raga Il bello è che loro mettono Ah non si può proprio andare Vabbè niente Allora non mettono niente Pensavo che ci potesse andare Invece ti butta direttamente fuori Sì questo è quello del potenziamento Ah no ma non è un drone nostro cattivo E' uno buono Allora non mettono Allora non mettono Questa era quella famosa In versione U che non avevo Porca loco Diciamo che lui c'ha una vita in più Bisogna tenere X premuto Mentre tieni l'altra Ok vai Ma dai Ma come sei caduto Se magari non vai dosso ai treni Me lo sono ricordato dopo l'agia Ok esci e la cosa potrebbe essere anche carina Uno dice va bene Il gioco ti dice di uscire Tu esci Marco Ok esci e la cosa potrebbe essere anche carina Ok esci e la cosa potrebbe essere anche carina Porca Io non ne ricordavo tre Però Ma tu lo struzzo eh Sai cacchio Stupidoschi Non finisce la stamina E' brutta Perché finisce la stamina Eh Era da far questo E basta Ma invece Senza stamina Non si riesce a fare Non si riesce a fare Allora sicuramente Non si può andare Sicuramente qui non si può andare Oh però qui si Non l'avevo visto Ecco come arrivare in quei punti lì E' ancora un enigma per me Ma proprio enigmistico Che roba Che roba No non ce l'abbiamo fatta Porca Neanche il segreto Sono tutti belli nascosti eh Ce n'è un'altra Ah no Qui è già È già la parte Del secondo mondo eh Secondo me Oppure E' ancora la parte del primo Secondo voi Il prima metà del ponte Forse la prima metà del ponte E' ancora questo Vediamo un attimo Dai Facciamo questa Oh facciamo questo Facciamo questa Un'ora Ah il ponte E' ancora la parte E' ancora il ponte Secondo me e' secondo me Un bulldozer il momento è che spara laser ok cacchio porca cacchio cacchio andato il mio amico cacchio uh cacchio 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 ma come fai come si fa a sconfiggere quella lava cacchio sei fuori marchito nooooo incredibile ce l'avevo quasi fatta mi son fatto fregare fregare proprio come un bambolone ah hai capito se tengo premuto il cerchio ho premuto 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 fa tipo un'esplosione interessante boss holy cow what the hell is that i've seen it before it's like a walking laser shooting bulldozer more like a for attempt killdozer go for the legs niente ci mette troppo tempo cacchio marco a a a a a a Porca Vai Sei serio? Porca Oh è proprio Porca Che strombolo Ma mi ha fatto proprio il fuoco in mezzo Dai Ma perché cazzo si gira Ma perché sto deficiente si gira Si gira da so Eta assur boss Holy cow What the hell is that? I've seen it before It's like a walking laser shooting bulldozer More like a for temp killdozer Go for the legs Ok Ok No Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma perché quando fa la lava non si può scappare? Cioè, perché vai di là? Perché fai l'auto? C'è che va, no? Oh mio Dio... Dai... Non girarti... Caspiterina... Vai... E sono già morti... E sono già morti... Vava mia... 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 Vava... Vava... Vava mia... Vava mia... Vava mia... Vava mia... La... Vava mia... Vava mia... Vava mia... Razz, non mi ricordo più Marco Drums Games, mi raccomando di seguire il mio canale YouTube con tutti i video di questo gioco e di tantissimi altri giochi dei one edition, dei live, unboxing, tutorial e tutto quello che faccio per me e per voi ciao amici, mi raccomando di seguirmi su Twitch, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Discord per tutti, tutti, tutti le novità sui giochi, sulla musica e sul film di Marco Drums Games e mi raccomando la cosa più importante è iscrivervi al canale Twitch che faccio le live fighissime tutti i giorni alle ore 21 quasi tutti i giorni, poi qualche giorno salta ma seguite la programmazione su Facebook o Instagram o Twitter o tutti e tre e vabbè, niente, grazie per aver visto il mio video e commentate nei commenti lasciate un bel posterino, un bel qualcosa un bel commento sotto nei commenti del video e se volete qualsiasi roba scrivete e lasciate un bel pollicione su, sia al canale che anche al video ciao ragazzi, alla prossima ciao 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 ciao